Io mi sono diplomato nel 1962, mio papà lavorava alla Cochitalia in quegli anni e sul suo suggerimento Io mi ero diplomato come perito chimico perché secondo lui era, anche se avrei voluto fare ragioniere, non so bene per quale motivo Comunque lui mi disse no, tu fai perito chimico perché vedrai che è più facile trovare lavoro E in effetti io non avevo neanche finito, non mi ero neanche ancora diplomato Che già aveva avuto richieste da parte delle ditte che avevano a fare con la chimica della provincia di Savona Quando mi sono diplomato avevo ottenuto il secondo voto tra quelli che si sono diplomati quell'anno E sono stato subito chiamato per fare un colloquio della Ferragna Quello che poi sarebbe diventato il mio capo, mi ricordo che mi disse, una volta finito il colloquio Mi disse, eravamo mi pare al primo d'agosto E mi disse, quando è che hai intenzione di incominciare? Gli ho detto, ma io veramente vorrei fare qualche giorno di ferie Ma lì ci è rimasto anche male Alla fine vorrei tornare almeno dopo il 15 di settembre Perché fare almeno un po' di ferie E quindi sono entrato il 17 di settembre Altrimenti, secondo quello che sarebbe diventato il mio capo Avrei dovuto entrare addirittura durante i primi giorni di agosto Per quanto riguarda il colloquio Ero da solo, probabilmente perché non mi ero guardato in giro Magari c'era anche qualche di un altro in quelle giornate Però sinceramente non mi ricordo che ci fosse qualcuno con me A fare il colloquio di accettazione Probabilmente ero già stato scelto a priori Anche perché una delle mie insegnanti Era la moglie dei dirigenti comunque del complesso In cui lavorava anche il mio capo Io sono entrato nel 62 Effettivamente io Ferragna non la conoscevo Nel senso che in quegli anni Io non avevo ancora la macchina Non avevo ancora preso la patente Per cui i miei viaggi nella Val Borbine Erano proprio veramente stati pochissimi Ero stato ad Altare perché c'era un mio amico Che abitava ad Altare Quindi ero andato ad Altare per la festa del paese Però poi in pratica ci ero passato qualche volta Con l'autobus o col treno Ma non avevo un'idea esatta Di quello che poteva essere la Val Borbine E più precisamente la Ferragna Che tra l'altro è in una zona un po' defilata Rispetto alle strade di maggior comunicazione Quando sono arrivato là Mi sono trovato davanti a una città Perché era estremamente grande Per quello che potevo essere io Per quanto riguarda invece Le automobili Negli anni 62 praticamente non ce n'erano Ce n'erano pochissime E il parcheggio era limitato A una tettoia Sotto la quale potevano stare Una cinquantina di auto Perché ovviamente in quegli anni Si arrivava a Ferragna O in treno o in autobus I più vicini Potevano anche andare in bicicletta Ma la maggioranza delle persone Andava in autobus E noi da Savona si partiva Si andava in treno Quei tempi là Quando si sono arrivati Effettivamente La mattina quando si entrava C'era una maria di persone Mi pare che fossimo circa 4 mila persone Quegli anni Per cui entrava Un paese intero Entrava dentro Questa comunità Quindi il mio primo impatto È stato un po' di sorpresa Nel senso che non era abituato A questi numeri Anche se facendoli industriali A quei tempi là Gli studenti erano parecchi Per cui era abituato Un po' diciamo All'arezza Come si può dire Però effettivamente 4 mila persone sono tante E mi sono trovato comunque Da subito abbastanza bene Perché I componenti Il laboratorio Che a quei tempi là Era un piccolo laboratorio Che era formato Ed era situato Al centro della fabbrica Così come si vede adesso Però dato che mancavano Quello che sarebbe Che era il mio capo Aveva chiesto dei laboratori Per sé Che fossero In una qualità diversa Da quelli Da cui era partito Lui come laboratorio Quindi ci avevano messo Provvisoriamente In attesa Che venisse Edificato Quello che poi Sarebbe stato chiamato L'ER O LRF Negli scantinati Al di sotto Della biblioteca Di Ferragna Quindi noi Praticamente Le mie prime giornate Sono passate Completamente al buio A parte che il nostro lavoro Era quello di stare Quasi sempre al buio Perché la luce Del sole Era da evitarsi Praticamente sempre E quindi Il primo impatto È stato quello Di vivere dentro Una specie di cantina Per i primi Quando siamo andati Per i primi Due o tre anni Praticamente Siamo vissuti In questa specie di scantinato I miei primi tempi Devo dire Sono stati abbastanza fortunati Perché io Ero già appassionato Di fotografia Fin da bambino Di fatti mio padre Mi regalò Quando io ero piccolo Una 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 macchina fotografica Zeiss Netter Formato 6x9 Come usavo A quei tempi Ovviamente Quella macchina a soffietto Che ho ancora adesso E io Era appassionato Di fotografia Fin da bambino Per cui Sono arrivato In un ambiente Che parlava di fotografie E il mio capo Parlando con me Aveva capito Che ero uno Che comunque Era interessato A questo tipo Di gravità E mi mandò Proprio A imparare A fare le fotografie Perché a quei tempi Là c'era Un centro Specializzato All'interno Della fabbrica Che veniva usato Non solo Per quelli Che venivano Assunti Ma soprattutto Per gli esterni Quindi i venditori I clienti Cioè tutti quelli Che avevano a che fare Con la fabbrica Anche esterni E c'era Questo Chiamiamola scuola Di fotografia In cui ti insegnavano Sia a fare fotografie Che ti facevano Conoscere la pellicola Come si sviluppava Su che tipi di carta Si poteva stampare Quanti tipi di carta In bianco e nero Con quei tempi là Praticamente La fotografia Era bianco e nero Negli anni 60 Non era colore E quindi Ho avuto modo Di passare I primi mesi Diciamo Praticamente a giocare Invece che a lavorare Perché praticamente Passavo il tempo A fare fotografie A sviluppare I negativi A stamparli Quindi per me Più che un lavoro È stato un divertimento Diciamo I primi mesi Di attività Era una specie Di scuola Quindi c'era Un numero limitato Di persone Con una guida Ovviamente Che era un esperto Che ci portava Prima in classe E ci spiegava Diciamo La teoria Poi ci portava fuori A fare le fotografie Quindi si ritornava All'interno Della fabbrica C'erano i laboratori Quelli di sviluppo E quelli di stampa E quindi ognuno Doveva svilupparsi Il negativo E poi fare le stampe E le stampe Farle su diversi tipi Di carta In modo da avere L'idea esatta Di qual era la qualità Finale del prodotto In quei tempi C'erano carte In bianco e nero Lucide e opache Però bianco e nero Poi c'erano quelle Virate a seppia C'erano diversi tipi Poi c'era Un supporto Tipo camoscio Adesso mi mette male Anche ricordare Esattamente Tutti i tipi di carta Che c'erano Perché c'erano Parecchi tipi di carta Ho moltissime fotografie Fatte in quei tempi La ovviamente Ma non Questo tipo Di varietà Fatte da me Ecco Mentre le carte Ancora adesso Si trovano facilmente Perché se uno va a vedere Gli album Le foto vecchie Di famiglia Degli anni 50 e 60 Le troverà Tutte foto In bianco e nero Su diversi tipi Di carta Cioè di qualità Di carta Come fondo Chiamiamolo così Che potevano essere Perfettamente bianche Poi Zigrinate Potevano essere Invece Tipo una pelle Di camoscio Con un color fondo Marroncino Proprio Da questa idea Di vecchio Diciamo che lì Il prendimento Era un po' Legato A quelli Che c'erano lì Con me Avevo ovviamente Un perito Che era intanto Prima di me Che era quello Che mi Poi mi fungeva Un po' Da guida E mi faceva vedere Quello che avremmo Potuto Dovuto fare All'interno Del laboratorio E poi Avevo il mio capo Che era Il laureato Ovviamente Che mi diceva Mi spiegava Cosa avrei dovuto fare Col passare Del tempo Ovviamente A parte che Dopo un anno Neanche Dopo un anno Sono partito militare Per cui sono stato A quei tempi là Si facevano 14 mesi Sono stato 14 mesi Fuori dalla fabbrica Tornato In fabbrica Ho trovato Un ambiente Ovviamente Un po' diverso Da quello Che avevo lasciato Perché nel frattempo Il mio laboratorio Che era In quel momento Era un laboratorio Di punta Per lo studio Sul negativo colore Era diventato Il mio capo Era diventato Responsabile Dell'evoluzione Dei prodotti Legati al colore Come il negativo E il positivo colore Quindi due prodotti Particolari Per cui Io avevo imparato Col bianco e nero Ma adesso La mia attività Sarebbe passata Sul colore Per cui Dato che Io avevo Ero l'unico Del gruppo Che avevo fatto Un certo tipo Di esperienza Per quanto riguarda La stampa Lo sviluppo Dei negativi Il mio capo Aveva ordinato Un ingranditore Che poteva stampare A colori Per cui Mi aveva dato La responsabilità Della stampa Delle prove Dei negativi Che stavamo mettendo A punto Quindi avevamo Un settore Che era quello Che preparava I negativi Diciamo così Cioè Un negativo colore È formato Da Almeno a quei tempi Era formato Da 12 strati Di pellicola I quali Tutti insieme Poi arrivavano A avere Uno spessore Di circa 20 micron Questi strati Avevano Fondamente Le funzioni Di registrare Tre colori Che sono Il cian Il magente E il giallo Cioè Scusate Registrare I strati Erano Tre I tre strati Erano Ciam E gente Giallo Che avevano La funzione Di registrare Il rosso Il verde E il blu Il blu Viola Diciamo Dello spettro Per cui Già Una difficoltà Di tipo Tecnico Poter fare Anche in laboratorio Degli strati Così sottili Che non si muscolassero Fra di loro Che non avessero Questi problemi Erano tecniche Già conosciute Col bianco e nero In pratica Però poi Evolute Col colore Quindi c'era Una prima parte Di chi si interessava Di questa cosa Era un perito Assunto dopo di me Che insieme A due o tre operai Specializzati Preparava Il negativo Poi c'era Io che facevo Le fotografie Poi c'era L'altro perito Che invece era specializzato Per quanto riguarda La parte degli sviluppi Colore Che anche in quel tempo Lì Noi non eravamo Molto Non avevamo Gran confidenza Con queste cose Perché non E quindi stava Ha studiato Quello che si conosceva E ha messo a punto I nostri sviluppi colore Per poter Per poter Trattare questa pellicola Io poi Prendevo la pellicola Facevo le prove Di stampa Per capire La qualità Del nostro negativo Rispetto Ovviamente Ai negativi Della concorrenza Per vedere Facendo prove particolari Se la qualità Com'era Insomma Adesso non sto qui A spiegarvi Tutto quello Che c'era da vedere Però il mio compito Era quello Praticamente Di portare Alla visione Praticamente Quello che era Il lavoro Di quelli Che me l'avevamo Preceduto Insomma Da noi Lavorando Da noi Effettivamente Ci rendevamo Conto Che le cose Che facevamo Noi Erano abbastanza Complicate E complesse Perché Come dicevo Appunto Già poter Stendere Un certo Numero Di strati Completamente Diversi Fra di loro Che poi rimanessero Comunque separati Potessero Essere Stesi A velocità Sempre più elevate Che adesso Non mi ricordo La velocità Distesa Degli assi Quando sono uscito io Ma viaggiavano A velocità Notevolissime Gli assi E gli assi Teniamo conto Che sono Di una larghezza Di 1,30 Di supporto Che passano Al di sotto Di una filiera Da cui Scendono Questi Stratti Di emulsione A 3 o 4 Alla volta Che non devono Tra l'altro Mescolarsi Fra di loro Perché altrimenti La cosa Non andrebbe Quindi devono Rimanere Comunque separati Fra di loro Poggiarsi Su questo Supporto Di triacetato Per il nostro Caso Perché per La pellicola Colori Il supporto Era triacetato Largo 1,30 A una velocità Di un centinaio Di metri Al minuto Senza avere Problemi Di qualsiasi Tipo Sia di qualità All'interno Degli strati Pulizia Nel senso Che non doveva essere Macchie Ne bollicine Ne erano di scorta E poi alla fine Dare un risultato Che noi Chiamiamo Sensitometrico Che sia Nella norma Nell'accettazione Ci sentevamo sicuramente Al di sopra Della media Di quelli che Lavoravano Nella Val Bormida Per quanto riguarda La difficoltà Dei materiali Che facciamo noi Perché prevedeva Appunto La scelta Dei prodotti chimici Che erano notevoli La produzione Di emulsioni Sensibili Alla luce Che già Richiedevano Una conoscenza Di alto livello Poi dovevamo Conoscere Prodotti chimici La maggior parte Erano Nuovi Magari brevettati Da noi Per cui Avevamo dei prodotti chimici Che non esistevano E noi avremmo dovuto Inventarceli Trovarli nuovi Mettere tutti insieme Farli lavorare Poi avere alla fine Un risultato Che si comparasse Alla concorrenza Che tra l'altro Molto Parliamo solo Della coda Che aveva Non mi ricordo Quante migliaia Di dipendenti Avesse a quegli anni Ma aveva Parliamo di 50-60 mila Dipendenti Forse anche di più Per cui Noi eravamo Dei piccolini Proprio piccolissimi Per cui Riuscire a fare un qualcosa Che si potesse Anche avvicinare A quello che facevano Gli altri Noi sembrava Di aver fatto Chissà cosa La ferragna Come ripeto Quando sono entrato Io Aveva più di 4 mila dipendenti In cui Un buon 50% Erano donne Per cui Diventa facile Far conoscenza Perché erano quasi Tutte donne giovani Perché Arrivati a un certo punto Poi ovviamente Le donne tendevano A sposarsi E poi andarsene a casa Almeno a quegli anni Per cui Mediamente Erano tutte donne giovani Per cui Trovarsi Mescolati Uomini e donne Dentro ovviamente Era abbastanza facile Fare amicizia E poi In qualche maniera Andare Far sì Far sì che il rapporto Si concludesse Anche con il matrimonio Ecco Diciamo la verità Io mia moglie L'ho conosciuta Anche se non lavorava Proprio da me Nel mio Diciamo dove lavoravo io Lavorava da un'altra parte Però Ci scontravamo Qua e là Poi andavamo A quei tempi là Si andava a ballare Alla Perla Che è un locale Di Cairo Oppure c'erano le feste A quei tempi là A Ferragna Diciamo Si festeggiava Quello che non era Il vero santo protettore Ma si faceva San Pietro e Paolo Perché Il fondatore Della Ferragna Era Adesso non mi ricordo Come faceva di nome Se faceva Pietro o Paolo Lui Comunque era Si ricordava più Il fondatore Della Ferragna Che il patrono E quindi Nei giorni San Pietro e Paolo Che ai tempi là Era festa Il 29 giugno C'era grande festa A Ferragna Il dopo lavoro Era in perfetta efficienza E ben tenuto Ovviamente Adesso Praticamente Sta cadendo a pezzi A quei tempi Tra l'altro Al dopo lavoro Venivano anche Cantanti importanti Tavavolo E' uno di quelli Che è venuto a cantare Lì Quindi venivano Cantanti a quei tempi Di importanza nazionale Non è che venissero Quindi si facevano Era una settimana Di feste Legate proprio Poi c'erano Si facevano I cine club Come si diceva Il cinema De sé Quindi C'era molto movimento In quella zona Quindi Ci si incontrava Facilmente Era abbastanza facile Incontrarsi Per cui Era facile Anche Fare amicizia E andare oltre Ecco Io quando sono entrato In Ferragna Con Schiatti Sinceramente Già non avevo Non avevo Già più avuto Contatti Perché Schiatti Probabilmente Non c'era più C'era Quello che l'avevo Stituito Adesso non mi ricordo Il nome Comunque Io con Schiatti Non avevo mai avuto Contatti Ne ho sentito Parlare molto Perché effettivamente Era quello Che aveva Comunque Dato origine Alla fabbrica Come l'ho trovata Io Perché era lui Che L'ha fatto diventare Così Però io Sinceramente Non l'ho mai incontrato Per cui Non saprei Cosa dire I miei tempi C'era Cuccolini Che era capo Della fabbrica Si chiamava Il Dottor Cuccolini O Ingegnero Non mi ricordo Cosa fosse E Schiatti L'ho sentito Parlare molto Perché ovvio In quei tempi Si parlava solo Di Schiatti Però direi Abbastanza Non c'era Odio Né cattiveria Contro Schiatti C'era Anche probabilmente Ma anche perché Erano i tempi Che la gente Era abituata A quel tipo Di situazione C'era Un capo No Che faceva Un po' Da papà Per tutti E è finita lì Insomma Però non penso Che fosse Una persona Mal vista Adesso io sinceramente Dal punto di vista Della ricerca Si ci sono stati Cambiamenti Che però Adesso non so Se sono state solo Funzioni Del fatto che Siano arrivati Gli americani Con gli americani Quello che mi ricordo io Almeno per gli anni Poi più avanzati Ovviamente Negli anni 70 80 C'era Un forte Rigore Nel senso Che gli americani Ti chiedevano Una programmazione Ritmata Su certi tempi Tu potevi Fissare Delle date Che secondo te Potevano essere Ragionevoli Perché loro A priori Non potevano Dirti Quanto tempo Ci avresti messo Per fare Un certo tipo Di materiale Perché non ne avevano Diciamo Le conoscenze Scientifiche O comunque Le basi Per poterti Dire Se queste erano Se i tempi Erano corretti O no Però una volta Che tu Insieme a loro Avevi messo Dei palletti Avevi fissato Una data Per loro Quella data Era una data Assoluta Non potevi Poi dire Ma no Ci siamo Confusi Quindi erano Sapevamo Che noi Ci eravamo Dei limiti Quei limiti Andavano rispettati Quasi sicuramente Al 100% Altrimenti Avevamo rischiato Perché Loro Noi Probabilmente Come prima Eravamo abituati A lavorare Un po' più Sull'asco Mentre loro Esigevano Delle tappe Ben precise Della terapeutica Del tuo lavoro Inoltre Loro Avevano Proprio Come Proprio Nel loro Nel loro Nel loro Modo di lavorare Avevano Un sistema Che Per quanto riguarda La parte tecnica Tutti gli anni Mi pare Mi ricordo bene Se no Ogni due anni Facevano Quello che avevano Technical meeting Technical audit Scusi Non Technical meeting Technical audit Per cui Venivano Dall'America E non solo Dall'America Un certo numero Di tecnici A cui tu dovevi Esporre Il lavoro Che avevi fatto E cosa avevi ottenuto E loro Poi ti davano Anche il voto Su quello che era stato Il tuo lavoro E questo Andava fatto Era una cosa Che prima Non si faceva Insomma Tu dovevi anche Da loro Che abbiamo imparato Poi a fare Certe cose Che poi La Fiat Ha fatto Molti anni dopo Noi sapevamo Benissimo Le facciamo Già da anni Guarda Quei scolari Della Fiat Vengano a dire Che hanno inventato Ste cose Ma noi Sono anni Che le facciamo Perché sono cose Che ci avevano Imposto Praticamente Gli americani Di fare Come formazione Delle persone Come gestione Del personale Erano cose Che noi Facevamo Già da anni La vita Dei reparti Io vabbè L'ho vissuta Solo Diciamo Come ospite Perché ovviamente Non ho mai vissuto Nei reparti Cosiddetti Di fabbricazione E di stesa Perché Li ho frequentati Però per molto tempo Sia di fabbricazione Delle emulsioni Sia di stesa Non ho mai frequentato I reparti chimici Perché non faceva parte Del mio lavoro Io mi sono sempre interessato Sia delle fabbricazioni Delle cosiddette emulsioni Che sono la parte Poi sensibile alla luce E la parte Diciamo ultima Che è quella Della trasformazione Di tutti i prodotti chimici Mescolati alle emulsioni Che poi andavano A formare I 14-15 strati Di cui abbiamo parlato prima Che avrebbero dato Poi origine Al prodotto finito E quello Era la mia Gli ultimi anni Mi interessavo solo Dell'ultima fase Del prodotto Quindi Dalla parte Distesa Più che delle parti Precedenti O dei prodotti chimici Perché c'erano Degli altri miei colleghi Che erano Interessati Soprattutto E alla parte Emulsioni E alla parte I prodotti chimici Io invece Mi interessavo solo Alla fine Di preparare La minestra Se vogliamo La pietanza Con tutto quello Che mi avevano fornito I miei colleghi Io era quello Che poi preparavo Il prodotto finito Il reparto La stesa In cui ho lavorato Io I primi anni Io ho lavorato In un reparto Che a quei tempi Lai era già Un reparto Diciamo Tecnicamente Molto evoluto Che si chiamava Reparto FC Che stava Per festoni Comandati Perché Fino ad allora Prima che fosse Costruito Questo reparto La stesa Veniva effettuata Sempre su Questi supporti Che potevano essere Carta Baritata Per quanto riguarda La carta Diciamo La La carta Fotografica O Supporto di Poliestere Per quanto I materiali Radio O comunque Litografici E invece Per i I prodotti Per macchina Fotografica Si usava Tiracetato Perché È un materiale Che può essere Tagliato Perforato Con facilità Mentre Il poliestere È molto Più duro I reparti Ristesa Fino a che Non è stato Costruito Questo reparto Chiamato FC Quindi Fastoni Comandati Erano Fate conto Come stendere La pasta Voiello Piuttosto Che la pasta Barilla Cioè C'erano Solo che Fatta al buio Ovviamente C'erano Come delle Grandi pieghe Nel cosiddetto Sicatoio Che andavano avanti Molto lentamente E asciugavano Quindi la velocità Distesa Era molto bassa Proprio perché C'era questa necessità Di asciugare La pellicola Prima che Per poterla poi avvolgere Che doveva essere Perfettamente asciutta Doveva passare In questi lunghi Corridoi Al buio Su questi Che si chiamavano Festoni Perché erano Diciamo Come Come Petteste a stendere Dei lenzuoli Molto lunghi No? Come fanno Un po' Con la pasta Alimentare E invece Questo nuovo Reparto Che a cui Andavo a lavorare Io Era un reparto Invece Che L'essiccatoio Era tutto chiuso Non era più All'aperto Ed era molto più veloce Come essiccamento Perché passava Un altro tipo Di essiccamento Ed è stato Il primo Reparto Di quel tipo Lì Sono poi Stati Preparati Altri due reparti Sempre per Avere Una maggiore Velocità Distesa E una maggior Larghezza Per quanto riguarda Gli assi Su cui si andava A stendere Che sono stati I reparti H5 H6 Che non mi ricordo Sono stati Inaugurati Negli anni Ottanta Gli anni Diciamo In cui La parte Tecnica E qualitativa Della ferragna Che ho vissuto Io Che effettivamente Adesso Determinalizzatamente Non mi ricordo Comunque C'è stato Un periodo In cui Mi ricordo Benissimo Lì Dove Lavoro Io Quindi All'Ero In questa Palazzina Situata Al di là Del fiume Rispetto Al resto Della Fabbrica Era Isolata Quindi Era Perché Era Un centro Di ricerca Quindi Era nato Come centro Di ricerca Isolato I primi tempi Tra l'altro Per accedere All'ersi Doveva passare Davanti A un guardiano Che ti chiedeva Dove Andavi Mentre Nel resto La fabbrica Potevi girare Dove Volevi Che nessuno Ti chiedeva Niente C'è stato Un periodo In cui Soprattutto Per quanto riguarda Il materiale Radio Quello Perché Si usa Per fare Radiografie Era arrivato Un fisico Che si chiamava Fattuzzo Che veniva Dall'America Italiano Ma era stato In America Per tornare Qui da noi Che aveva Scoperto Aveva brevettato Un sistema Per migliorare Per aumentare La sensibilità Non tanto Della pellicola Quando degli schermi Che si usano Che si usavano Adesso non si usano più Per Per Che si mettevano Dietro la pellicola Radiografica E che aumentavano Diciamo Moltiplicavano L'effetto Dei raggi Che passano E colpiscono La lastra Lo aumentavano In modo da ridurre La quantità Di raggi Che si Si danno Al paziente Non so se Chiara un messaggio Si riceve i tempi Quindi I sistemi Erano due Uno Aumentare La sensibilità Della pellicola Cioè la pellicola Stessa diventava Più sensibile Per cui La quantità Di reazioni Veniva Di unuita Di conseguenza Questo signore Ha invece Capito Che se ci metteva Dietro Un certo tipo Di prodotti Sul vetro Riusciva a ottenere Un effetto Specchio Per cui Riusciva A dimezzare Ulteriormente Questo è stato Un periodo Importantissimo Tra l'altro Questo qui Era un fisico Che era Segretario Dei fisici italiani Mi ricordo Che c'era Il Rubia Che era Premio Nobel Quando aveva bisogno Di farsi firmare Dei documenti Veniva da sto qui Quindi insomma Avevamo In Ferragna Avevamo Delle persone Con delle conoscenze Diciamo Al di sopra Della media Penso A capire Che ci sarebbe Stato Diciamo Comunque Un periodo Un po' Difficile Perché Le prime Macchine Che però Erano Di una qualità Molto scadente Difatti Il mio capo Di quei tempi Là Che non era Più il primo Ma era Il secondo Capo Che ho avuto Quando facevamo Questi Tecnic Di cui Vi ho parlato Gli ultimi Che facevamo Metteva In luce Il fatto Che le pellicole A colori Che facevamo Noi Erano Molto Migliori Le fotografie Che riusciamo Noi a fare Erano Decisamente Migliori Di quelle Che facevano Le macchine Elettroniche Che usavano Quei tempi Là Solo Che ormai Probabilmente Avevamo Già capito Che Dato che I computer Avevano Una Velocità Di Crescita O comunque Della qualità Di computer Era talmente Veloce Rispetto A quello Che riusciamo A fare Noi Perché noi Abbiamo capito Che mai Eravamo arrivati Al massimo Della qualità Che si poteva Ottenere Con i prodotti Che stavamo Usando noi Quindi le emulsioni E i prodotti chimici Erano arrivati Praticamente Al massimo Della prestazione Della prestazione Per cui Abbiamo capito Che se La tecnologia Dell'elettronica Fosse avanzata Così rapidamente Come stava avanzando Per il computer I tempi I tempi sarebbero stati Non infiniti Non infiniti Pensavamo Probabilmente Di riuscire A durare Qualche anno Di più Quello sì In effetti Si pensava Già Quei tempi Là Di trovare Alternative Alla Diciamo La produzione Però Ammette male Quando uno È talmente Specializzato In un campo Così Definito Come la produzione Di macchine Diciamo Di pellicole Fotografiche Gli unici Che potevano Avere Diciamo 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 I chimici Perché comunque Lavorando Su prodotti chimici È una tecnologia Che puoi vendere O comunque Puoi usare Per altri Per altri Settori Mentre invece Il settore Fotografico In sé Entrando La fotografia Digitale Praticamente Perdeva Non dico Tutto Ma quasi Tutto Il suo Valore È difficile Come detto Prima Soprattutto Per Settori Così Specialistici Come Tra l'esempio Banale Ci portiamo Sull'esempio Del panda Che mangia I bambù Il giorno Che i bambù Non ci sono più Il panda Non sa cosa mangiare Capisci? Non so Se è chiaro Il concetto Noi Facciamo Fare Benissimo Le emulsioni Certi tipi Di prodotti chimici Specializzati Per quel tipo Di prodotto Mette male Poi spostarti Completamente In un'altra zona Anche se avremo avuto Probabilmente Delle maestranze In grado Di spostarsi Però Non è una cosa Facilissima Perché se tu fai Tutti i giorni Quel lavoro Ti riesce bene Mette male Spostarti E fanno un'altra E per i giovani Che sono arrivati Si sono trovati In una situazione Un po' Dbalata Perché c'hai Chi comanda Che ormai è vecchio Che si è già fatto Le ossa Nel senso Che si ha messo Da parte Magari Tutto quello Che gli si poteva Servire Per la vecchiaia E quindi Gli ne frega Anche un po' Del futuro Tra virgolette Nel senso Che gli importa Relativamente Anche se Ovviamente Non è molto corretto E i giovani Che invece Sono entrati Perché io ne ho conosciuto Parecchi giovani Lavoravano con me Che sono entrati Con molte speranze Perché negli anni 80 Effettivamente La cosa era Cioè Nessuno pensava Che la fabbrica Finisse dopo 15 anni Ecco Capisci Per cui sono entrati Con molte speranze Marito e moglie Che avevano anche figli Proprio Contentissime Di essere entrati Anzi C'erano molte persone Che volevano entrare A Ferragna Quegli anni là Perché sembrava Una fabbrica Che potesse durare All'infinito Però purtroppo La tecnologia È fatta così Bisogna avere Un cambio Completamente Perché poi Tra l'altro Le attrezzature Che avevamo noi Purtroppo Non potevano servire A altro Facevamo i minestroni Facevamo qualcosa Per mangiare Perché poi Erano dei gran pettoloni Oppure Dovevamo buttare giù Tutto E rifare E rifare tutto Anche dal punto di vista Diciamo Ci passo però Ricordandomi Gli anni 60 e 70 E arriviamo Fino agli 80 E vedere Com'è ridotto Adesso Effettivamente Uno si sente Il cuore un po' stretto Ecco Perché Vedi Proprio Il decadimento Delle strutture E Delle strutture Delle strutture Delle strutture Delle strutture Delle strutture Delle strutture Delle strutture